ok ragazzi ho finito di fare l'aggiornamento della mia playstation però c'è compasso questa schermata blu e non succede niente c'è non succede niente c'è c'è pure il cosa accesso però avevo accesso la play ed è compasso sempre questo c'è mi aiutate su questa cosa ci aspettate un attimo caspano e tu qua